François Gillian è un filosofo francese, giovane, abilissimo, un po' provocatorio. Ha scritto in italiano Ponte alle Grazie un saggio breve, come vedete, che si chiama Risorse del Cristianesimo, ma è strano l'approccio perché il sottotitolo precisa ma senza passare per la via della fede. Che cosa vuol dire? Vuol dire esaminare, raccontare, vedere quanto del Cristianesimo è rimasto attivo ed operante nel mondo contemporaneo anche a prescindere dal fatto di essere cristiani, cioè di avvicinarsi con la fede. Non perché in stragrande maggioranza non crediamo più e in ogni caso non pratichiamo più, ci siamo affrancati, scrive Gillian, dai segni che ha lasciato impressi nel pensiero del mondo occidentale, in un momento in cui le società, come sappiamo, sono largamente secolarizzate e persino sapere, sto leggendo, se die o esista o meno è una questione che appare esaurita, però resta interessante dal punto di vista della storia del pensiero. Ora lui si propone di esaminare l'eredità cristiana e l'insegnamento cristiano senza passare, come dicevo prima, leggendo il sottotitolo, per la precondizione della fede, cioè esaminando le scritture non nel senso della verità, come fa chi ha fede, ma nel senso del significato che possono continuare ad avere nel mondo contemporaneo. Una larga parte dell'ultima parte del saggio è dedicata all'amore. Lui prende in esame soprattutto questo sentimento lasciato in eredità dal cristianesimo, anzi dal suo, dal Cristo direttamente, da Gesù, soprattutto prendendolo dal Vangelo di Giovanni, dal quarto Vangelo, che è il più denso, il più alto di contenuto anche filosofico. Dobbiamo dissipare, scrive, il grande equivoco dell'amore che il Vangelo ha reso unico comandamento, che vi amiate gli uni con gli altri. Che cosa vuol dire amare? Nel senso in cui Giovanni lo scrive ripetendo, dettando il verbo del maestro. È un significato radicalmente nuovo, che non ha niente a che vedere con l'altruismo. Il termine greco è agape. Agape significa nel cristianesimo l'amore in quanto espansivo, in opposizione all'amore per quello che è di possessivo. L'amore espansivo è l'amore dell'io vivo attraverso di te. Questo amore è ciò che attraversa e annulla la separazione degli esseri per come sono isolati nel mondo e permette loro di dimorare l'uno accanto e dentro l'altro. L'ultimo capitolo, questo dedicato all'amore, è molto intenso e molto persuasivo di ciò che l'eredità del cristianesimo in senso laico e anche senza fede può significare per gli esseri umani di oggi.